Si riprende da dove si era finito. Il Pescara se la vede ancora una volta con i calabresi del Fabrizio Corigliano. Due settimane fa questo incontro assegnò i Biancazzurri come ultima gara del girone d'andata. La seconda piazza domenica invece consegnerà alla vincente il pass per le Final Four di Winter Cup, manifestazione che assegnerà a fine febbraio, in una sede ancora da destinarsi, il primo titolo del 2015. Dopo la breve sosta natalizia, la squadra agli ordini di Mr. Colini è tornata ad allenarsi a ranghi compatti con la stessa concentrazione e determinazione di sempre. Non inganni la vittoria per 5-0 conseguita nella recente gara del 14 dicembre. Il Corigliano, che nel frattempo ha esonerato Ceppi per affidarsi alla coppia Toscano-Cimino, non è affatto una squadra da prendere sotto gamba essendo composta da uomini in larga parte di grande esperienza e di ottima tecnica individuale. Non sarà facile ripetersi per gli uomini di Colini chiamati invece a proseguire quella crescita che li ha portati nella zona più alta della classifica, ma che non ha ancora del tutto soddisfatto il tecnico Biancazzurro. In sede di mercato intanto prosegue la ricerca da parte del direttore sportivo Matteo Iannascoli di un rinforzo che dia al roster un'ampiezza di scelta maggiore di quella attuale. Operazione non facile in un mercato come l'attuale, ma che prima o poi, ne siamo certi, troverà una soluzione di qualità. Tornando alla gara con il Corigliano, l'appuntamento è per domani alle 18 al Palarigo Piano dove arbitreranno Fabrizio Burattoni di Lugo di Romagna e Antonio Sessa di Foggia al cronometro Daniele Di Resta della sezione di Roma 2.